Nella salata di venerdì 4 giugno, intorno alle 23, due uomini travisati e armati di pistola si sono introdotti a scopo di rapina all'interno di una villetta di un gioielliere a Rivoli. Nell'attona coltazione con il proprietario e uno dei due rapinatori ha esploso un colpo di arma da fuoco che ha colpito l'uomo alle gambe. I due hanno quindi raffato tutto ciò che riuscivano e sono fuggiti. Una gazzella dei carabinieri di Rivoli, prontamente accorsa sul luogo, è riuscita a bloccarne uno, a ritrovare la pistola lanciata nel giardino e a recuperare gran parte della refurtiva. Il rapinatore catturato dagli uomini dell'arma, privo di documenti, è stato poi identificato in un cittadino di nazionalità rumena cinquantenne. La vittima è stata trasportata al CTO in discrete condizioni e non è in pericolo di vita. Ancora in corso sopra il luogo è la visione delle telecamere della zona, nonché le ricerche del complice che sembrerebbe essere fuggito a piedi, ma sulle cui tracce ci sono i carabinieri. Grazie a tutti.